Allora, un saluto comunque a chi capita e a chi guarda questi video. Il titolo di questo video è un po' particolare, è B.C.E. Lagarde, effetti della comunicazione. Allora, questa volta ho deciso di realizzare un piccolo video alla luce di ciò che è successo in seguito alle parole di Lagarde. Ricordiamo che Lagarde è la presidentessa della Banca Centrale Europea. Ha sostituito, dato che il mandato di Mario Draghi giungeva a termine, ha sostituito Mario Draghi ed è quindi la persona il numero uno a Francoforte per quanto riguarda quindi la guida della B.C.E. Questo video non vuole invitare al lancio di accuse o critiche, quello lo hanno già fatto molti quotidiani nazionali. Devo dire che nella giornata di ieri, poco dopo le affermazioni di Lagarde, Christine Lagarde, sono state tantissime le critiche che le sono state rivolte. Non dico neanche che questo evento non debba accadere, è giusto che ogni persona si esprima e vada a condividere quello che sente. Come racconterò in questo video, non è la mia filosofia di vita stare sempre a criticare l'operato degli altri, ma quello che sente invece molto più forte è cercare di vedere nuovi punti di vista, nuove idee, nuove soluzioni e non semplicemente sputare fango sul prossimo. Allora, ripetiamo un attimino insieme quello che è successo nella giornata del 12 marzo 2020. Era un giovedì e come ben sappiamo in alcuni giovedì si riunisce la Banca Centrale Europea. Non è che tutta la banca si riunisce, ma vi sono alcuni esponenti e in questo caso c'è l'intervista a Lagarde, in merito a quella che sarà la condotta della politica monetaria in un momento abbastanza particolare come questo del coronavirus. Quando nasce quello che è stato etichettato come disastro comunicativo di Christine Lagarde? Questo disastro nasce nel momento in cui viene a essere posta una domanda sull'Italia. Viene fatta una domanda e la risposta di Christine Lagarde è la seguente. Non siamo qui per ridurre gli spread, non è compito nostro. Cioè, è inutile che mi continuate a dire cosa accadrà allo spread dell'Italia, perché non è questo il mio obiettivo, parlando di mio in termini di Banca Centrale Europea. Quelle dichiarazioni hanno avuto un impatto? Sì, quelle dichiarazioni hanno avuto un impatto sui mercati finanziari. La borsa di Milano è andata molto male. Mi sembra che il dato che sia stato registrato sia pari a un meno 16% e questo mi sembra, potrei anche dire una cavolata, però mi sembra che questo meno 16% rappresenti essere il peggior dato della storia della borsa di Milano da quando è nata. Quindi, questo video vuole evitare ad una pacifica discussione di idee, cosa ultimamente sembra essere abbastanza difficile. Dico questo perché mi sembra di vivere in un contesto in cui è facilissimo criticare il prossimo, è facilissimo sputare fango sul prossimo, ma è abbastanza raro vedere qualcuno che tira fuori delle idee veramente interessanti. Adesso voglio dire quella che è la mia, questo è un puro pensiero personale, qualcuno lo potrà etichettare fortemente sbagliato, da pollo, da scemo, ma poco importa perché voglio più che altro lanciare un dibattito, una discussione pacifica. Per me, quello che è successo è abbastanza particolare. Perché? Perché l'affermazione che si è in la garda non è che sia totalmente sbagliata, cioè non è compito di una banca centrale europea, secondo me, andare ad influire sugli spread. Però, che cosa succede? Prima di andare avanti, diciamo questo anche, che per me sono i governi nazionali che grazie alle misure che mettono in atto, mandano un segnale potente agli investitori, a tutta quella popolazione di soggetti che popola i famosi mercati finanziari. E questa immagine vale tanto, fa proprio riflettere. Ma detto questo, cosa voglio dire? Voglio dire che se vi fossero delle vere politiche economiche, io ho messo politiche con la P maiuscola, non perché mi sono sbagliato a scrivere sulla tastiera, ma perché credo che, in un determinato contesto, servano veramente delle politiche economiche potenti, di ampio spettro, fortemente orientate alla crescita. Queste non sono semplici per i governi, e ora lo vado anche a raccontare il perché. Perché le manovre di politica economica non è che oggi le vari e domani avrai degli effetti economici. Gli effetti economici hanno bisogno di un timing, di un tempo, per potersi andare a manifestare. Quindi a cosa succede? Succede che, dato che il mandato di un governo non è eterno, molti governi si potrebbero chiedere, ma perché devo mettere in atto delle misure di politica economica che vanno a impattare senza dubbio sulla crescita, ma potrebbero addirittura andare a creare dei benefici a una coalizione totalmente opposta, che magari nel prossimo mandato si ritrova al governo e beneficia di quello che io ho fatto adesso, in questo periodo. Questa non è una cosa da sottovalutare, questo è un tema molto importante. Quanti sono i governi che sarebbero disposti a fare delle politiche economiche con la P maiuscola pur sapendo che sarà la coalizione successiva che magari ne beneficerà e che magari si mette pure lì a millantarsi? È compito, anzi no è compito, scusate, è nostro merito il fatto che, per esempio, il PIL aumenta, la disoccupazione si riduce e migliorano gli investimenti delle imprese. Queste sono cose che io ringrazio Economia Politica di averla potuta studiare e che mi ha aperto la mente su tanti di questi aspetti. Ma ritorniamo un attimino a quelle che sono le considerazioni del video, dove dico che se vi fossero delle vere politiche economiche, potenti, di ampio spettro, fortemente orientate alla crescita, avremo tutto questo bisogno di appellarci alla BCE? Questa è una domanda. Nel contesto attuale che stiamo vivendo, il video è realizzato nella fase storica del coronavirus. In questo contesto, che cosa succede? Quindi, ritorniamo un attimino a riprendere il filo logico di ciò che stavo dicendo. Ho detto, secondo me, non è sbagliato ciò che dice la GARD, cioè, non è compito la BCE andare a ridurre gli spread, però c'è da dire, guarda, fermiamoci un attimino, siamo in una situazione un po' particolare, la situazione del coronavirus e di tutti gli effetti che questo ha sull'attività economica. Allora, forse, una risposta diversa alla domanda che è stata posta a Chris Hillagard, poteva essere una risposta che continua a dire, ok, è vero, non è compito della BCE andare a ridurre gli spread, però, state tranquilli, perché? Perché la BCE interverrà e cercherà di fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per poter andare a sostenere i Paesi membri. Forse una comunicazione di questo tipo avrebbe cambiato dell'esito di alcuni eventi, anche se c'è da dire che dopo la conferenza, che cosa è successo? È stato organizzato un nuovo video alla CNBC, mi sembra, e in questo video Lagarde comunque afferma, guardate, che non vogliamo una frammentazione dell'Eurozona e allo stesso tempo il problema dello spread è un problema importante, ne andiamo a tenere conto, quindi c'è stata una fase correttiva. E addirittura queste informazioni sono poi finite all'interno dei documenti che sintetizzano l'operato di quella che è la riunione della Banca Centro-Europea. Come già ho detto diverse volte, a me non piace criticare gli altri, tutti gli esseri umani commettono dei sbagli, fanno parte della vita. Ciò che invece amo e che condivido tanto con gli studenti che ho l'opportunità di aiutare, visto che nella vita mi occupo di aiutare studenti universitari per gli esami di economia politica e politica economica, è quello di sviluppare anche idee e soluzioni che sia una beneficio di tutti e della collettività. Questo evento ha permesso ancora una volta di osservare che cosa è il grado di dipendenza che si ha nei confronti dei mercati finanziari. Nelle mie lezioni di economia politica o politica economica invito il più possibile i studenti a riflettere, a non studiare solo per prendere il 30 o il 30 all'ode, ma a sviluppare anche un sano senso critico. Nel 2020 può essere ancora, cioè domanda, può essere ancora così importante il verdetto dei mercati finanziari, mercati che mi sembrano popolati da operatori che si muovono troppo emotivamente. Cioè l'assenza di rassicurazione e la lagarde ha portato gli operatori dei mercati finanziari a vendere in maniera poco controllata titoli di Stato italiani, titoli che avevano all'interno dei loro portafogli. E che cosa è successo? La vendita di titoli di Stato italiani ha determinato come effetto economico quello di una riduzione dei prezzi. E che cosa succede quando vi è la riduzione del prezzo di un titolo obbligazionario o di un bond? La riduzione del prezzo determina un aumento in rendimento. E questo aumento in rendimento che cosa fa? Fa salire lo spread. E questo è proprio ciò che si è andato a verificare nella giornata del 12 marzo 2020. Un caro saluto da Lib e auguro una buona e serena giornata a chiunque guarderà questo video. E come già stavo dicendo prima, nel quotidiano mi occupo di aiutare studenti universitari alle prese con l'esame di economia politica o politica economica e le prossime immagini che vedrai sono foto con studenti universitari che ho avuto la possibilità di aiutare.